Un muro che racconta la storia del cinema italiano, due campi da basket trasformati in opere d'arte permanenti. Nasce Cantieri San Paolo, nuovo laboratorio di street art nel quartiere sud della capitale. Il progetto dell'ottavo municipio, sostenuto dalla regione Lazio, porta la firma di artisti romani come Greg Jagger, Gorjo e il Collettivo 900. Tiziano Panici, direttore artistico dell'associazione Dominio Pubblico che cura il complesso dell'iniziativa. Lavoriamo tanto con la street art ma in realtà il progetto nasce in teatro e l'obiettivo è quello di piano piano trasformare e recuperare quest'area per creare uno spazio adeguato ad ospitare eventi culturali. I campi da basket a Valco di San Paolo diventano i Tiber Courtyards di Greg Jagger con i loro coloratissimi segni grafici. One Take Project invece crea tre opere murali sulle pareti interne dell'Istituto di Istruzione Superiore Cine e TV Roberto Rossellini, il presidente dell'ottavo municipio Amedeo Ciaccheri. Lavorando sulla possibilità che queste operazioni siano non solamente un abbellimento, un elemento visibile di un cambiamento del quartiere ma una vera e propria operazione di arte pubblica.